Buongiorno a tutti, ora vi darò l'indicazione per raggiungere l'aeroporto internazionale Sandro Bertini, Torino Caselle, senza prendere alcuna contravvenzione stradale. Dovete partire, andate sulla corsia di destra e salite al primo piano. In questa corsia ci ritroveremo su due corsie, una sinistra e una destra. Noi per utilizzare il parcheggio Kiss & Fly gratuito per 10 minuti, dobbiamo prendere la corsia di sinistra perché quella di destra è riservata alle forze, polizia e ai mezzi riservati. Ci ritroveremo al primo piano, davanti una colonnina col parcometro, dove ritireremo il nostro bigliettino e potremo sostare per 10 minuti. Questo è il parcheggio e in fondo abbiamo l'aeroporto. Possiamo quindi sostare qui dopodiché con il nostro bigliettino ci legheremo all'altra uscita per uscire dall'aeroporto gratuitamente. Iscrivetevi al mio canale Silver Thunder Grazie a tutti Buon appetito